Con la tecnica che voglio proporti oggi potrai leggere anche al doppio delle velocità e soprattutto riuscendo a comprendere le informazioni, altrimenti la lettura non avrebbe senso. Quindi sono dei piccoli accorgimenti che ci portano a grandi risultati e oggi voglio illustrarti quali sono questi accorgimenti e quindi avvicinarti ai risultati che sono il nostro obiettivo. Prima di fare questo però voglio rubarti solo qualche istante per ricordarti che puoi richiedere l'accesso al corso gratuito sul metodo di studio per studenti universitari. Facilissimo, va nel link che c'è in descrizione, clicchi e inserisci il tuo nome e la tua mail. Nella mail riceverai tutti i contenuti del corso che sicuramente ti possono aiutare. Come ti ho detto il corso è gratuito quindi non hai nulla da perdere e quindi ti consiglio e ti invito di approfittartene. Tornando invece all'argomento del video di oggi vediamo insieme la sigla e poi ti faccio capire qual è questa tecnica che ti permetterà di raddoppiare la quantità di informazioni che riesci a leggere nella stessa unità di tempo. Vediamo insieme quindi in termini di lettura rapida qual è quella tecnica che puoi utilizzare per riuscire a realizzare questa strategia rapidamente e quindi apprendere in modo efficace. Partiamo dal capire qual è proprio il meccanismo che mettiamo in atto durante la lettura quando leggiamo normalmente, quindi nel caso della lettura classica. Andiamo proprio ad analizzare, capirei presto perché è importantissimo, come si muove il nostro sguardo quando leggiamo. Sta lì diciamo il trucco della lettura rapida, uno dei trucchi più importanti in ogni caso. Quindi immaginiamo di cercare di guardare come si muove il nostro occhio mentre leggiamo. Abbiamo davanti a noi tutta una serie di parole, non ho utilizzato un esempio pratico perché non è importante, perché questo tipo di movimento oculare dipende dal fatto stesso di leggere e non dal contenuto. Quindi va benissimo mettere una serie di parole una dopo l'altro, quindi parola, parola, parola e così via. E quindi immaginiamo che lo sguardo si focalizzi intanto sulla prima parola. Ora avviene qualcosa che è del tutto normale, del tutto naturale, quindi non c'è niente di strano, niente di sbagliato, di patologico, che in termine tecnico si chiama saccade. Non ci interessa tantissimo il termine tecnico, ma ci interessa capire che cosa avviene. E appunto ciò che avviene è il passaggio da una parola all'altra, non in modo lineare, ma attraverso una sorta di salto. Questo salto è normale, come ti ho detto qualche istante fa, ma si ripete sempre. E questo, già ti anticipo, crea una sorta di affaticamento per la vista, per lo sguardo. Quindi più parole dobbiamo leggere, tanti più salti dobbiamo fare per passare dalla prima alla seconda, dalla seconda alla terza, dalla terza alla quarta, dalla quarta alla quinta, dalla quinta alla sesta e così via. Se immagini di dover leggere un intero libro, ovviamente immagina quanti di questi salti devi compiere. Sono ovviamente dei movimenti piccolissimi, ma che comunque creano fatica a livello della lettura e la rallentano, perché il tempo che dobbiamo compiere questo movimento a scatto, questo salto, è tempo sostanzialmente che perdiamo nella lettura, che potremmo impiegare nel leggere in modo più rapido. Quindi questo è il modo in cui normalmente si legge. C'è una soluzione che è estremamente semplice, davvero, davvero semplice, ma che spesso viene sottostimata. Se segui il mio canale da un po', sicuramente me ne avrai sentito parlare. Oggi lo spieghiamo in questo modo e magari è ancora più chiaro. Ed è il principio del puntatore. Devi utilizzare un puntatore quando leggi. Io qui ho messo un'icona di una matita. Va benissimo il dito, puoi utilizzare una penna, un evidenziatore, qualunque oggetto che sia appuntito, in modo tale da poter indicare mentre leggi la parola che devi leggere. Quindi, se prima ci muoviamo a scatti, perché è l'occhio che cerca parola dopo parola su cose deve focalizzare la propria attenzione, con il puntatore indichiamo noi in prima persona esattamente qual è quel qualcosa su cui dobbiamo focalizzare la nostra vista e di conseguenza anche un'intera frase può essere tranquillamente letta in modo lineare. Quindi non c'è quel salto, ma siccome il puntatore lo muoviamo in modo lineare, da sinistra verso destra, mentre leggiamo le varie parole, quindi le varie frasi, di conseguenza anche lo sguardo non farà quei salti, ma si muoverà in modo altrettanto lineare. E questa linealità poi è il fondamento, la base della lettura rapida. Quindi devi sperimentare con vari tipi di puntatore, utilizza quello che ti fa più simpatia, che ti vede meglio, tendi soprattutto ad utilizzare un puntatore in modo tale che possa la lettura avvenire in modo più spontaneo possibile, ma noterai subito dei miglioramenti. Aggiungo un piccolo trucco alla fine, quello che abbiamo appena visto nel video di oggi, evita di leggere a voce alta, leggermente. Questo ti velocizzerà ancora di più nella lettura, ma la cosa fondamentale è comunque rimane quella del puntatore. Quindi ti invito a farmi sapere, dopo aver provato questa tecnica, questa strategia, se stai cominciando a notare dei miglioramenti in termini di velocità di lettura, e se hai dei problemi, sai che puoi contattarmi, sono felici di poterti aiutare. Ti ringrazio per il tempo che mi hai dedicato, ti ringrazio per la tua attenzione, ti rinnovo l'invito a richiedere l'accesso al corso gratuito sul metodo di studio Presidente Universitari e trovi il link usato in descrizione. Ti aspetto con moltissimo piacere nel video che uscirà domani.